Ciao a tutti, oggi siamo in Milano, in Italia e stiamo cercando di capire se il Kpop è davvero famoso in Europa e in effetti è il gruppo Kpop più popolare quindi cominciamo e sapete di che paese è? Corea Corea del sud Where are you guys from? Philippines So, you know what is Kpop? You know what is Kpop? Korean pop songs So, what are your favorite groups of Kpop? Blackpink Blackpink? And you? BTS Un nome di un gruppo ad un membro di qualcuno? Uh, il BTS credo Si, io sono studente qui in Italia Allora, te per caso conosci Kpop Sai cos'è? Kpop? Si, cantanti koreani Sai qualche gruppo, qualche nome? No, no, solamente sentito parlare del genere Ho capito e a te che musica ti piace personalmente? Eh, a me piace di più la Trap So, you know the name of the members of the Blackpink Lisa Jenny Rose eeeh eeeh e Jisoo quindi da dove siete? in USA quindi da voi sapete cosa Kpop è? sì quindi se mi chiedo di dire un gruppo il nome di un gruppo Kpop studenti o lavoratori? studenti e di dove siete? Reggio Emilia Reggio Emilia voi per caso sapete cosa sia il Kpop? sì quale è il vostro gruppo preferito? i BTS sono China quindi sai Kpop? sì, sai e qual è il vostro gruppo preferito? Big Bang sapete i nomi dei membri di BTS? si che lo puoi dire? Jimin, V, Jungkook, Rap Monster J-Hope, Suga e direi basta e quindi i miei nomi dei membri di loro? un po' chanjilong e taiyang, shenli qual è Kpop? sicuramente, sono Asian quindi qual è il vostro gruppo preferito Kpop? BTS non c'è nessun gruppo non c'è nessun gruppo dove sei? from Japan ah, come si è nipon人? ah, come si è nipon人 ma hai saputo Kpop? ah, ma hai saputo ah, un po' un po' un po' un po' un po' Twins Twins è la tua storia? Eh, i scioglioni i scioglioni ah, scioglioni non lo conosco i scioglioni i scioglioni i scioglioni i scioglioni le scioglioni Ah, i scioglioni Voi quando è che avete approcciato per la prima volta Kpop? Con la vita Più o meno tempisticamente? L'anno scorso E io invece due anni fa E non hai più altre gruppi che non sono BTS? una domanda veloce voi sapete per caso cosa sia il K-pop? no quindi da dove sei? sono da sweden sei da? sweden che è K-pop? musica musica quindi sai da dove c'è K-pop? so che sia da Asia ma non so dove ok, quindi è da South Korea sai alcune persone famose di South Korea? voi avete idea di qualche personaggio famoso di quel paese? no zero? zero io perlomeno zero non credo no quello... quello cattivo aspetta the player in Tottenham, Son Son ho capito e qualche canzone, la canzone preferita dei BTS? e dopo